indipendentemente dall'età. Ovviamente devi cercare di tenerti in forma fondamentalmente, devi cercare di tenerti in forma perché questo è fondamentale, ma tenerti in forma non, salutiamo anche Alessandro e Marisa, tenerti in forma non con il bisturi tagliente, ma tenerti in forma con, ad esempio, attraverso un'attività fisica che ti possa valorizzare, certo c'è una due donne di 50 anni, una che tiene il culo sul divano e magna e una che invece fa attività fisica, cammina, fa palestra, fa squat eccetera eccetera, sarà comunque molto più soda, questo vuol dire che segue una dieta, insomma anche la pelle, la pelle è bella se non mangi schifezze, se non fumi ad esempio, no? Cioè ci sono, questo è ridicolo, ci sono donne che utilizzano delle creme che tra l'altro servono un cazzo, sono soltanto schifezze chimiche che ti metti sulla pelle e poi per mantenere la pelle, per mantenersi la pelle bella, poi fumano, che tutti sanno che il fumo danneggia brutalmente la pelle, magari bevono anche super alcolici per dire, no? Che anche lì, e invece certo seguire una dieta alimentare sana è fondamentale, quindi poi ovviamente non devi lasciarti sminuire, la tua età è quella che è, devi essere la migliore versione di te stessa sia fisicamente, no? Non devi mai convincerti di non avere l'età giusta, però puoi migliorarti ovviamente. Tra l'altro il discorso è che molte donne poi pensano di, se tu inizia a farti i canotti, a rifarti le tette, a rifarti le labbra, a rifarti qua, a diventare di plastica, poi sei tutta finta, non potrai cercare un uomo vero, no? C'era quel detto che diceva, quella si è fatta le tette di plastica, si è fatta il culo di plastica, si è fatta le labbra di silicone, si è fatta i capelli, le leg extension, che ne so, le unghie finte da tigre dei denti a sciabola, cioè è tutta finta e poi vorrebbe un uomo vero. Questo è assurdo. Non è mai troppo tardi per farsi prendere per il culo del catamista, bravo. Comunque, ogni età ha il suo fascino, quindi devi tenere presente questo, cioè devi tenere presente questo. Migliorati, ma questo è un punto fondamentale. Questo è il primo trucco, perché il primo trucco è lavorare su se stessi, è amare se stessi, essere in sintonia con se stessi. Poi, questa è la prima cosa. Poi la seconda cosa è, diciamo così, scegliere l'uomo giusto. È inutile che scegli il bello e dannato, perché il bello è dannato, se tu ti focalizzi sugli uomini sbagliati, ma anche qua te lo prenderai in quel posto. Certo, devi imparare tu a darti delle emozioni, perché se scegli il bello dannato e libertino, il bad boy, diciamo, magari il più giovane di te, è ovvio che questo si divertirà a prenderti per il culo. Poi fai come cazzo vuoi, no? Cioè, per carità. Però è anche importante scegliere, è anche importante scegliere, salutiamo Rosi, la donna cuciniera. Ecco, è anche importante manifestare le tue qualità a un uomo. Quando passano gli anni, manifesta le qualità di cuciniera, come fa la nostra Rosi, donna cuciniera, perché tieni presente che, certo, magari un ragazzo di 20 anni non ne hai fatto un cazzo di mangiare, beh, ovviamente donna cuciniera, ma che cucina non delle schifezze immonde, no? Cioè, non quelle che cucinano lasagne tutti i giorni che poi ti mettono all'ingrasso. Cioè, deve essere anche una cucina sana. Però una donna cuciniera che cucina cibi sani e che fa questa cosa qua, beh, è un valore raggiunto, no? Sicuramente. Ma poi, ecco, devi eliminare la possibilità di innamorarti, ad esempio, dei modelli di bellezza che ti propina la pubblicità, che tanto non riuscirai mai a raggiungere. Quindi tu hai il tuo modello di bellezza, è il tuo punto fondamentale questo, non cercare delle cose che tanto non hanno senso. E neanche cercare uomini, diciamo, belli e dannati, perché questo non funziona. Anche agli uomini, e suggerisco di non cercare la donna frivola, perché non otterranno nessun risultato. Tieni presente questo che l'ossessione della perfezione, diventa un narcisismo.